Ragazze e ragazzi, ciao a tutti quanti. Leggetele il titolo, non ve l'aspettavate, vero? Beh ragazzi, in realtà ovviamente il 18 settembre del 2019, quando è uscito C'era una volta a Hollywood e sono andato a vederlo, avrei voluto fare la recensione, però ragazzi a fine anno ci sono state molte cose, molti impegni, e sono usciti film ben più interessanti onestamente, tipo Dr. Sleep e Joker, quindi devo dire che c'era una volta a Hollywood, mi è un po' passato via dal cervello, mi è scivolato, slipped. A distanza di sei mesi direi che è arrivato il momento di fare la recensione, anche perché l'ho rivisto recentemente, l'ho rivisto con la mamma e quindi questa era la mia seconda volta e per mia madre era la prima. Ragazzi, come potete vedere dal titolo e dal voto, abbiate pietà di Vespertili, ma questo film non mi è piaciuto, non mi è piaciuto. E la seconda visione mi è solo servita per capire quanto non mi fosse piaciuto. Considerate ragazzi che, a parte che è lunghissimo, quanto è lungo, credo, credo che il film sia due ore e mezza, due ore e quaranta, tre, quattro, cinque, due ore e quaranta, due ore e quaranta, beh, beh. Considerate che mia madre prima dell'ora, quindi prima dei sessanta minuti, si è addormentata. Mia madre si è addormentata e io, che ho resistito per tutte due ore e quaranta, non vedevo l'ora che finisse. Mi si stavano proprio spaccando i coglioni. Ma questa non è una recensione, quindi buttiamoci nella mischia e cominciamo a fare una recensione pulita. Dopo il grande successo, anche se pure quello è stato un po' criticato, beh ragazzi diciamo che Tarantino fa film unici nel suo genere, che vi piacciono o no fa film unici. Quindi Quentin o piace o non piace. Io vi dico che la doppietta Django Hateful Eight la trovo stupenda, ma preferisco gli odiati otto, i detestabili otto, anche se nella seconda parte del film, anzi, il film scade, Hateful Eight scade nel momento esatto in cui muore John Root. Muore John Root e inizia quella sorta di pseudo interrogatorio, anche abbastanza banale, abbastanza noioso, fra il maggiore Marquis Warren e tutti e tre, che si scopre essere tutti e tre delinquenti. Ecco, secondo me Quentin ha fatto un doppio errore. Errore numero uno, uccidere John Root, perché Kurt Russell ragazzi è una meraviglia. Errore numero due, far sì che tutti e tre, quindi Root, Madsen e come si chiama, Damien Beshir credo, il messicano, sono tutti e tre cattivi. Perché ragazzi? Ma ve lo spiego subito perché non a caso sono regista, scrittore, sceneggiatore, tutto quello che volete. Vi spiego subito ragazzi perché il film scade. Numero uno, perché John Root era sì quello che voleva, si era proprio impuntato di uccidere Daisy Domergue, ma, virgola, come dice lo stesso Samuel Jackson, è anche l'unico che la voleva portare viva a Red Rock. Primo punto. Secondo punto. Tu mi ammazzi praticamente quello che possiamo definire il protagonista, anche se nella regia di Tarantino non esiste il. Sono tutti coprotagonisti, c'è proprio un miscuglio, un frullatore. Però lasci che tutta la seconda parte del film venga sostenuta sulle spalle di Samuel e anche di Walton Goggins, che è un grande sceriffo di Red Rock, che poi non sapremo mai se è la verità o no, anche se da come lui si comporta sembra che sia la verità. E lascia nelle mani di Samuel e di Walton questo interrogatorio forzato che può per forza andare in una direzione. Perché capiamoci ragazzi, ha un'altra cosa. Il film viene anche rovinato dalla presenza, che dura tipo due minuti, di, come si chiama ragazzi, Channing Tatum, che poi è stranissimo vederlo in Magic Mike e poi in un film di Tarantino. La scena di Channing Tatum che spara nelle palle a Marquis, condannandolo praticamente a morte, perché si muore nel 2020 per un proiettile nelle palle, figuriamoci nell'Ottocento, e poi lo ammazza subito dopo, sfracellandogli la testa. Ecco, alla fine, perché Quentin non ce la fa, proprio è più forte di lui, se io lo dico sempre, e anche con i miei parenti, con i miei amici, anche loro sono d'accordo, Quentin in una vita parallela è sicuramente un assassino seriale, un maniaco, uno stupratore, un seviziatore, ma in questo universo, in questo universo è un regista, per fortuna. Quindi Quentin a un certo punto deve per forza dare via agli sbudellamenti, per forza. Ma in una storia scritta così bene, come gli odiati otto, mandare tutto in vacca e vedere proiettili e cervelli che esplodono, è molto sciocco. Ecco perché Hateful Eight cade pesantemente di tono nella seconda parte. Ripeto, il terzo punto, scusatemi, il terzo punto, scoprire che tutti e tre sono cattivi. Perché, ragazzi, questo è un difetto? Perché vuol dire che tutti quanti in quella emporio, in quella fattoria, in quella haberdashery, sono tutti d'accordo con Daisy Domerghiu. Quindi non c'è un dubbio. Capito, ragazzi? Non c'è il dubbio che Marquis abbia ammazzato uno buono o che uno di loro tre sia veramente una vittima, veramente innocente. Anzi, nella scena che poi ti mostra Quentin, nel flashback, nel ricordo, si vede chiaramente che sono tutti d'accordo, persino Bruce Dern, il vecchio di merda. Quindi nel momento in cui tu appiani, ecco, appiani la moralità dei personaggi, rendi tutti inevitabilmente più noioso in un film come Tarantino. Non sto dicendo che i cattivi sono noiosi e che i buoni sono noiosi, ma Quentin si è proprio perso in Hateful Eight. Dopo questa recensione allucinante dentro un altro video, ci ho fatto otto minuti di recensione di un altro... Lo preferisco a Django? Lo preferisco. Perché appunto Hateful Eight, che Quentin lo ha dichiarato, è stato ispirato chiaramente alla cosa di John Carpenter, ovvero una serie di persone forzatamente rinchiusi in un posto e non sanno di chi fidarsi. Cioè lui l'ha detto chiaramente, io mi sono ispirato alla cosa. Ma lo preferisco. Mentre Django, che è un film molto bello, molto bello, però è più semplice. Il film viene sostenuto da Jamie Foxx e da Christopher Waltz, che poi viene ammazzato, poi c'è quello straordinario, immenso Leonardo Di Caprio, e poi di nuovo Jamie Foxx che fa saltare teste. Hateful Eight è più studiato. Dopo nove minuti andiamo a cercare una volta a Hollywood. Ragazzi, questo film, se non sbaglio in realtà si già nel 2017, Tarantino aveva deciso che voleva fare un omaggio al cinema anni 70, che poi in realtà ragazzi 69, quindi è proprio un film a cavallo. Era da anni in realtà che lui voleva farlo e già ci dava i primi indizi con Kill Bill, poi appunto con Django il suo primo western, poi di nuovo con Hateful Eight, e ora finalmente ha fatto lui quasi un metafilm, quasi. È un film che parla del mondo del cinema. Perfetto. 1969. Immagino che Quentin forse era già nato. Quentin aveva sei anni nel 1969. Diciamo ragazzi che per Hollywood, ma in generale per il mondo del cinema, perché comunque eravamo appena usciti dalla guerra, gli anni 60-70 furono pazzeschi per il mondo del cinema, specialmente per Hollywood. E finalmente Quentin ha avuto quello che voleva, il suo cinepanettone di Hollywood, con un grande Leonardo DiCaprio, ma Leonardo è grande dovunque lo metti, con un grande Brad Pitt, che finalmente dopo aver lasciato quella prugna rinsecchita di Angelina torna a fare film decenti, e con la nuova fregna, perché purtroppo ragazzi, è così ragazzi, è come il banco frigo. Ogni totte anni, quando maturano, quando crescono, c'è la nuova fregna, e Margot Robbie è la nuova fregna. Quindi buttiamole in tutti i film da qui, fino ai prossimi vent'anni, finché quelle piccoline di ora cresceranno e sostituiranno Margot Robbie. Il film ragazzi ha un cast enorme, enorme. Emil Hirsch, Emil Hirsch, quello che ha fatto Lords of Dogtown, sì cazzo, non l'avevo nemmeno riconosciuto. Margaret, come si può pronunciare, quelli, quelli, credo che si pronunci quelli, che sta ragazza ha fatto impazzire tutti, sta ragazza ha fatto impazzire tutti, non so perché, sì va bene carina, simpatica, va bene, sa recitare, però dai, stiamo calmi. Timothy Oliphant, Dakota Fanning, che ragazzi mi dispiace dirlo, non lo so, sembro cattivo se lo dico, più Dakota cresce, meno è bella. Quando era piccola, piccola così, carino, tutta, la nuova baby attrice, no? Tipo Shirley Temple, e tutti sti gran cazzi, Dakota da piccola era un amore. Adesso ragazzi, che ha, quanti anni ha la bambina? La bambina ha 26 anni, non mi piace ragazzi, non mi piace. la vedo un po' gonfia, un po', non lo so, un po' pesantita, ha 26 anni, non lo so, nel dimostrativo 40, non lo so. Bruce Dern, che scopro l'altra volta, cioè qualche mese fa, quando eravamo ancora fuori dalla quarantena, prima che Conte decidessi di far entrare il virus, mi guardavo mille documentari in giro per YouTube, e Bruce Dern dice, come ho detto a mia figlia allora, io ho Bruce Dern, Laura Dern, sì ragazzi, Bruce Dern è il padre di Laura, quella che ha fatto Jurassic Park, mi è esploso il mondo. Abbiamo Mike Mo, che ha fatto quella controversa parte di Bruce Lee, dove però devo ammettere ragazzi che è un mito, è preciso, a parte che ovviamente è un americano coreano, un americano coreano, è quinto grado di cintura nera di Taekwondo, cioè questo spacca culi, ed è diventato famoso ragazzi, l'ho scoperto ora, sì ma voi, è diventato famoso nel 2014, per aver partecipato a una serie web, Street Fighter, il pugno dell'assassino, una serie giapponese, ma che cosa? Poi ce l'andiamo a cercare, ora di Margot e di Sharon ne parleremo, Leonardo e Brad interpretano due amici, nella fattispecie Leonardo è l'attore, e Brad è la sua controfigura, diciamo inesistenti, fittizi, poi non so se Quentin si è ispirato a qualcuno, ma loro sono inesistenti. Poi abbiamo Damon, 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 Harryman, che interpreta Charles Manson, peraltro ragazzi, in due, in due rappresentazioni, c'era una volta, è Mindhunter, non so esattamente questa cosa come è nata, ma intendo scoprirla. Una delle donne della famiglia Manson è Maya Hawke, che se non sapete chi è, dovete proprio disiscrivervi dal canale, Maya Hawke, è la figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, che se voi la guardate, porca puttana, è uguale a sua madre, è uguale a sua madre, ha preso letteralmente il meglio da Uma e da Ethan, vedi un po' che furbetto Quentin, cioè fa lavorare la figlia di una donna con cui ha lavorato per anni, perché tutti siamo convinti che Quentin ami sessualmente Uma, ne siamo seriamente convinti. Ah, io ho appena scoperto che esiste una persona, beh, resistente, attrice e musicista, che si chiama Harley Quinn Smith, cioè questa, i genitori l'hanno chiamata Harley Quinn Smith, ho capito, va bene. Poi ragazzi, potrei stare qui tutta la vita, a descrivervi tutti i personaggi, perché Quentin ha fatto un lavoro dal punto di vista tecnico, ha fatto un lavoro magistrale, non gli possiamo dire niente. Abbiamo Carter Russell, che è capo stuntman, e anche il narratore. Zoe Bell, la biondina, che è la stuntwoman di Uma Thurman, nonché Judy, come si chiamava, Judy tiro a sei, Judy sei cavalli, quella di Eightful Eight, ragazzi, quel film lo vedo talmente tante volte che lo so a memoria. Abbiamo ovviamente Michael Madsen, ma che ve lo sto a dire? Ah, e poi ragazzi, come se il film non fosse già abbastanza lungo, nella versione stessa del film, appare James Marsden, non confondiamoci, cioè Ciclope, X-Men Ciclope, che fa Bart Reynolds, e ovviamente c'è Walton Goggins, che fa la voce di una pubblicità. Ragazzi, il film è curato nei minimi dettagli, è fin troppo minuzioso, però, no, non esiste il film fin troppo minuzioso, il film va fatto bene. Qual è la cosa che non convince Vespere, ragazzi? Ve la dico subito, non c'è motivo, ragazzi, di fare una super recensione sulla storia. C'è un attore, diciamo, in declino, che cerca un modo di risollevarsi, ed è Leonardo Di Caprio. Ha un amico fedelissimo, proprio un amico fedele. Non è soltanto un collega, un collaboratore, è un suo amico, che se gli dice ti prego, vami a fare la spesa, lui gliela va a fare, ed è Brad Pitt, Cliff Booth. Booth vuol dire cabina, Cliff cabina. Sono proprio amiconi fratelli, amiconi. Ma c'è poco da dirvi, ragazzi. È un film che parla di film. Vediamo Leonardo lavorare. Cioè, capito, ragazzi, io non voglio rompervi l'idillio, perché ci saranno milioni di persone a cui c'era una volta ha fatto impazzire. Io non dirò a me ha fatto cacare, ma lo trovo di una noia mortale. È proprio una rottura di coglioni questo film. E sapere che esiste la versione estesa, cioè più lunga di due minuti e quaranta, di due ore e quaranta, mi fa tremare. Perché? Stiamo calmi, ragazzi. Mi disse un tizio su Facebook quando io ho criticato questo film e mi ha detto tu non capisci niente, ovviamente. Mi ha detto questo è il tipico film Slice of Life. C'è fetta di vita. Slice of Life. Sì, d'accordo, fratello, ma due ore e quaranta di Slice of Life mi rompe i coglioni. Ma non vedrei due ore e quaranta neanche di Michael Jackson. Forse. Forse sì. Forse sì, si è fatto. Ma Michael almeno è esistito veramente. È considerato forse il miglior cantante degli ultimi cinquant'anni. Ha una carriera incredibile. Rick Dalton e Cliff Booth non sono nessuno. Quindi perché dovrei guardarmi due ore e quaranta di due personaggi che non esistono? Questi sono i deliri di Quentin. I deliri di Quentin. Stiamo calmi. Andiamo avanti. Il film è costato, si stima, un massimo di novantasei milioni e ne ha guadagnati trecentosettantaquattromila. diciamo, assolutamente un successo, ma non c'era dubbio. Cioè, Quentin è successo. Quentin è sinonimo di successo. Dato che c'è stata quella bella porcata con la... i Waynesteen. Questo è il primo film di Quentin. Cioè, no, veramente non posso dire questa cosa e non andrò a cercarlo perché mi secca. Questo è distribuito dalla Sony. Un film di Quentin distribuito dalla Sony. Ha vinto due Oscar, ragazzi. miglior attore non protagonista, Brad Pitt, e miglior scenografia. E ci mancherebbe perché guardare c'era una volta Hollywood è come entrare negli anni sessanta. Per questo dico, ragazzi, a livello tecnico, io il film non lo posso toccare. A livello tecnico è un... non voglio dire un capolavoro, ma ci si avvicina molto. Cioè, chiunque ha vissuto la Hollywood anni sessanta guardando quel cazzo di film, non lo so, si metterà a piangere. Io non c'ero, però, insomma, sì, per me è sì. Ma... ma ora dobbiamo andare a tutto ciò che non va. Il direttore della fotografia, babe, stiamo attenti. Robert Richardson, che ha tipo sessant'anni, ha lavorato a tutto. Salvador, Platoon, Wall Street, nato il 4 luglio, The Doors, JFK, Few Good Men, cioè codice d'onore, sì, Assassini Nati, Natural Born Killers, Nixon, L'uomo che sussurrava ai cavalli, Le Quattro Piume, Kill Bill, The Aviator, Bastardi Senza Gloria, Shutter Island, Mangia Prega Ama, Hugo. Interessante ragazzi, ma in realtà da Quentin ce lo possiamo aspettare, questo film non ha colonna sonora, non ha colonna sonora. Ovviamente ha usato soltanto musiche dell'epoca, programmi dell'epoca, televisione, audio, radio dell'epoca, ma questo film non ha colonna sonora, non ha un compositore. Ah ecco, qui abbiamo le dichiarazioni, vi ricordate ragazzi che ci fu quel problemino con Bruce Lee? Qui abbiamo le dichiarazioni di Shannon, la figlia. Leggo dal Wikipedia italiano, attenzione, è stato davvero spiacevole sedersi al cinema e sentire le persone ridere di mio padre. Nel film lui è dipinto, descritto, come un arrogante che sfida Brad Pitt, ma lui non era affatto così. Il film in Cina è stato vietato, è stato vietato. Ricordiamoci ragazzi che in Cina Bruce Lee è praticamente Dio. Ora però andiamo al Wikipedia inglese. Shannon dice mio padre era continuamente emarginato e trattato come un fastidio, un fastidio umano dall'Hollywood bianca ed è esattamente come l'ha trattato Tarantino. Certo ragazzi c'è da dire che a Shannon brucia personalmente ovviamente. Karim Abdul Jabbar il nero di 2000 metri con cui ha fatto lui un film dice certo Tarantino ha il diritto artistico di rappresentare Bruce come vuole ma descriverlo così è una maniera come posso tradurlo questo tipo Mosha è anche un poco razzista è un fallimento come artista intende Tarantino è come essere umano Mike Mo che ha interpretato Bruce dice ero un po' in conflitto all'inizio perché nella mia mente Bruce è praticamente un dio ma dobbiamo anche dire che Bruce non era sempre particolarmente affettuoso addirittura qui dice non rispettava gli stuntman aggiunge Tarantino ama Bruce Lee lo riverisce addirittura ragazzi Brad Pitt ha obiettato per un'ipotetica versione più lunga del combattimento perché se ci pensate ragazzi il combattimento alla fine dura 20 secondi forse 30 e a quanto pare volevano fare un video un video un combattimento più lungo ma Brad Pitt ha rifiutato dicendo it's Bruce Lee man secondo Gene Lebel amico e stuntman di Green Hornet ragazzi quindi una persona di 87 anni cioè parliamo di uno che ci stava così con Bruce Lee aveva la reputazione di prendere a calci in culo gli stuntman non riuscivamo a convincerlo che poteva andarci giù leggero e il film sarebbe comunque risultato convincente no lui doveva andarci giù duro il biografo di Lee un certo Matthew Polly ha detto allora ragazzi io vi traduco quella cosa che ha detto il suo biografo ve la traduco letteralmente ma non l'ho mica capita cioè è una frase che si autoannulla da sola Bruce era molto famoso per avere grande considerazione delle persone sotto di lui specialmente gli stuntman quindi in questa scena Bruce sta facendo in modo di far licenziare uno stuntman perché lui è la grande stella non l'ho capita sta frase ragazzi ve la leggo per com'è ma non l'ho mica capita ecco qui c'è una piccola controversia ragazzi stiamo attenti Tarantino ha risposto a tutte queste controversie dicendo che Bruce Lee era un poco arrogante esiste una biografia scritta da Linda Lee ovviamente che si chiama Bruce Lee l'uomo che solo io conoscevo Bruce Lee afferma affermava che avrebbe potuto sconfiggere Mohammed Ali ma attenzione questa frase non appartiene a Linda ma a un certo critico cinematografico a quanto pare nel 72 Lee ha detto tutti dicono che io dovrei combattere con Ali ma guardate alle mie mani guardate le mie mani sono le piccole mani di un cinese mi ucciderebbe insomma ragazzi questa è la classica fuffa del cazzo di cui potremmo parlare tutta la vita e non la risolveremmo devo dire ragazzi che è una scena che si poteva risparmiare sì se la poteva risparmiare perché comunque possiamo dire tutto quello che vogliamo su Bruce Lee che non era un bravo attore che era un finto maestro perché non ha mai partecipato a nessuna gara a nessuna categoria però ragazzi indubbiamente era bravo nelle arti marziali quindi creare un film dove tu crei un'interpretazione di Bruce Lee e lo fai combattere con una tua creatura cioè Cliff Booth che non si sa come può rompergli il culo è proprio una scena che ti potevi risparmiare no però ragazzi è Tarantino gli facciamo passare pure questa Tarantino ha dato a Roman Polanski una prima bozza della sceneggiatura per vedere se lui era d'accordo perché sai com'è è brutto ragazzi quando tu sei per i cazzi tuoi e qualcuno entra in casa tua e ti ammazza tua moglie incinta non è mai una bella cosa quindi non mi interessa Roman e i suoi abusi sessuali bla 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 però indubbiamente gli è successa una cosa terrificante e quindi Tarantino ci è voluto andare con i guanti di piombo con i piedi di lattice Deborah Tate la sorella di Sharon all'inizio si è opposta perché per lei era soltanto un'inutile celebrazione di un evento molto oscuro però dopo Tarantino le ha parlato e ha cambiato idea ecco lei dice questo film non è quello che la gente che si aspetta che la gente si aspetta quando combini Tarantino e Manson perché la signora già sapeva che Tarantino avrebbe diciamo snaturato la storia Tate Manson perché ho dato questi voti a c'era una volta Hollywood perché a me non è piaciuto ve lo dico ragazzi perché non ha storia non ha storia ragazzi perché anche la scusa della slice of life la fetta di vita non può durare due ore e quaranta ragazzi una slice of life tipo Amarcord ecco Amarcord è slice of life ma a parte che Amarcord non dura due ore e quaranta e comunque ragazzi Amarcord è condito da quella tipicità dei borghi italiani degli anni 30 ed è pieno di battute è pieno di situazioni comiche ha anche situazioni tragiche ma fondamentalmente è leggero Amarcord è leggero invece ragazzi Hollywood qui è un inseguimento con la telecamera della vita della Hollywood del 69 e può interessarmi come può anche rompermi i coglioni cioè a meno che tu non sei un patito sfegatato dell'Hollywood del 69 o un patito sfegatato di Quentin che pure se rutta tu gridi al capolavoro e c'è gente così come c'è gente che dice che Black Panther e Capitan Marvel sono capolavori c'è anche gente che dice che tutti i film di Quentin sono dei capolavori no non è vero o a meno che nel 69 non eri nel mondo di Hollywood quindi magari una persona che ora ovviamente è vecchia e dire guarda io di là ci sono passate è figa magari la Hollywood bulevar e tutte queste cazzate gli scende la lacrimuccia la nostalgia eccetera eccetera non ha storia ragazzi non ha storia non ha storia è un film senza storia due ore e quaranta non lo puoi far andare avanti quale sarebbe la storia ragazzi Rick Dalton personaggio inventato che deve reinventarsi nel cinema Cliff che dà passaggi alle figlie dei fiori con le ascelle pelose che lo portano nella fattoria Manson a tirare pompini e a gonfiare ruote no ragazzi no vi dico la parte più interessante di Hollywood sono i primi 20-30 minuti quando c'è proprio l'esplosione di anni 60 Polanski Tate Steve McQueen produttori attori soldi musiche colori vestiti sgargianti proprio gli anni 60 i figli dei fiori Beatles Dors ma esistevano nel 60? si dice che esistevano io ragazzi scusate ma dei Dors non sono un cazzo e non mi dispiaccio Rolling Stones è cazzi da rullare Woodstock e vaffanculo però ragazzi non ha scheletro io non so come dirvelo per non sembrarvi stronzo è un film che non ha scheletro e come si vede nei libri dell'elementare spero che siamo stati tutti almeno all'elementare lo scheletro regge il nostro corpo cosa succede a un corpo senza scheletro? quindi ragazzi io vi dico mia madre si è addormentata io mi stavo annoiando cioè sono stato lì sveglio solo per l'amore della patria ma veramente volevo dormire anch'io se fosse stato 30 minuti più corto anche un'ora magari andava bene l'ultima critica ragazzi l'ultima super critica la famiglia Manson e l'omicidio Tate allora io avrò tanti difetti ma ho una buona memoria quando questo film fu annunciato si disse chiaramente Quentin Tarantino farà un film all'epoca dell'omicidio Tate sì un conto è dire questo un altro è dire io sto facendo un film ambientato durante l'omicidio di Martin Luther King durante l'allunaggio capito ragazzi durante Woodstock ecco cioè scusatemi ragazzi ma uno come Quentin non ha bisogno di fare clickbait non ha bisogno dell'esca uno come Quentin Tarantino quindi quando tu pubblicizzi il tuo film come un film ambientato durante l'omicidio Tate tutto il pianeta Terra me compreso si aspetta che tu farai un film sull'omicidio Tate e invece no lui scusatemi ragazzi questa è esca e abbiamo abboccato quasi tutti dai lui ha fatto un film che parlava della Hollywood anni 60 e il protagonista ha come vicina Sharon Tate ma se tu togli questo film se tu togli Sharon da questo film indovina un po' cosa succede un cazzo il film fila lo stesso e cosa ci insegna ragazzi una delle prime regole della narrativa sceneggiatura ma dico in generale la narrativa se tu togliendo un elemento il film la storia non cambia vuol dire che quell'elemento non serviva un cazzo in primo luogo non era funzionale d'accordo ragazzi se io scrivo un libro dove metto Johnny il panettiere e se io tolgo Johnny il panettiere e il film non muta in nessun modo vuol dire che Johnny il panettiere non serviva l'hai messo solo per fare brodo per fare sugo minestra quindi ragazzi mi dispiace questo film ha molti difetti è un capolavoro visivo è sempre gradevole vedere Leonardo anzi non so se sono mai stati insieme è stato bello vedere Leonardo e Breddy insieme molto bello molto bello ma non ha scheletro ragazzi io mi ricordo addirittura sempre perché ho una buona memoria io mi ricordo addirittura ragazzi che si disse non so se erano voci ufficiali o se erano speculazioni dei giornalisti non credo che Quentin abbia detto una cosa falsa quindi non l'ha mai detto forse voi ve lo ricordate meglio di me ma si sparse la voce infatti tutti lo credevamo e lo speravamo in effetti si sparse la voce che il personaggio di Leonardo e Bred fossero due investigatori che dovevano indagare sull'omicidio Tate questa era la prima trama che era trapelata non so se ve lo ricordate e invece puff un paio di coglioni puff il personaggio di Charles Manson appare tipo 10-20 secondi però lo posso anche capire perché Quentin non gira i drammi non gira i thriller non gira i crime sbudellosi quindi non aveva senso in primo luogo che Quentin facesse un film sull'omicidio Tate e infatti non l'ha fatto ha fatto una cosa che diciamo la sua visione per carità ma non c'entra un cazzo con l'omicidio Tate di Cello Drive quindi che tu ci metti o non ci metti Sharon non è cambiato un cazzo e a me ragazzi i clickbait da Tarantino proprio non me vanno giù non me va giù il bait da Tarantino quindi ragazzi ripeto ripeto visivamente è spazzesco spazzesco spettacol pazzesco ma non c'ha storia e io se permettete due ore e quaranta tanto vale che mi guardo un porno di due ore e quaranta magari c'è più trama da Vespertili è tutto un bacetto grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.